Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo la mia serie dedicata alle mimetiche più belle di Call of Duty Infinite Warfare e oggi parleremo della mimetica stellata. Avete capito bene? Stiamo parlando di una mimetica molto particolare che ho sbloccato per i fucili a pompa. Infatti nel video la vedrete sul River, il mio fucile a pompa preferito. Mi ricorda tantissimo i fucili a pompa che avevamo ad esempio il Bulldog su Call of Duty Ghost. Quindi è un fucile a pompa che mi piace particolarmente. Se andiamo a vedere nel dettaglio questa mimetica mi ricorda veramente molto le Converse. Quindi tutte queste stelline di bianco su uno sfondo praticamente omogeneo. Allora la colorazione sembrerebbe essere un grigio scuro o un grigio leggermente ambrato. Mentre per quanto riguarda la tematica di tutta la mimetica sono queste stelline bianche. La presenza di stelline su tutto il corpo dell'arma. Quindi sulla canna, sul caricatore, sull'impugnatura e su tutto il resto. Una mimetica veramente molto carina che ho trovata appunto all'interno di un lancio di rifornimento. Quindi me la sono ritrovata all'interno del furiere. Quindi del mercato nero di Call of Duty Infinite Warfare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale mimetica avete sbloccato e qual è secondo voi la più bella oltre ovviamente a cielo nero la famosa Dark Matter. E noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video. Sempre qui, sempre sul mio canale.